Ciao, io sono Gabriele, e sono un volontario di protezione civile. Allora, guarda, ti volevamo farvi dire la campagna Io non rischio. Questa campagna è una campagna nazionale di protezione civile e riguarda tutti i principali rischi che ci possono essere sul territorio. I rischi che vengono trattati sono il rischio alluvione, il rischio terremoto e il rischio mare-moto. Nel nostro caso, via Scanducci, abbiamo fatto la tenda legata al rischio alluvione.